E' forse il van più conosciuto della Mercedes-Benz, apprezzato da sempre per affidabilità, confort e prestazioni. Vito Furgone si rifà il look e nel facelift i cambiamenti non sono tanto estetici quanto di comfort, sicurezza e tecnologie. Le tre versioni di lunghezza esterna rimangono le stesse, con la versione compact da 4,89 m, la versione long da 5,14 m e la versione più lunga da 5,40 m. Il nuovo Vito Furgone è configurabile con motore 1.750 a trazione anteriore, con due steppe di potenza da 102 e 136 CV, oppure con il nuovo motore OM654 con cilindrata 1.950, introdotto con la nuova versione che va a sostituire il motore OM651 con cilindrata 2.143. Con il nuovo motore 1.950 viene anche introdotto il cambio nuovo G-Tronic, in sostituzione del 7 G-Tronic, ma rimane disponibile per alcune varianti di potenza anche il cambio manuale a 6 marce. Il motore OM654 è disponibile nelle tre varianti di potenza, 136, 163 e 190 CV, ma ricordiamo che per tutte le varianti di potenza è inseribile la trazione integrale permanente. Perfetto come veicolo commerciale, Vito Furgone è dotato di un motore 4 cilindri diesel Common Rail di quarta generazione. Il nuovo motore è realizzato completamente in alluminio con tecnologia nanoslide, infatti rispetto al motore precedente OM651 che pesa 203 kg, il motore OM654 pesa 168 kg, ben 35 kg in meno. Internamente nel nuovo Vito Furgone troviamo bocchette di areazione completamente ridisegnate con aspetto più moderno a turbina. Inoltre troviamo anche il nuovo tessuto coprisidili Fabric Caluma Black con un motivo a strisce bianche nella zona della seduta e dello schienale. Con la nuova versione è di serie anche il pianale in plastica, che è costituito da uno stato centrale tridimensionale, daminato su entrambi i lati, che garantisce un basso peso ma una grande resistenza. La parte superiore del pianale è realizzata in TPO, è antiscivolo e garantisce la totale impermeabilità. I nuovi sistemi multimediali Audio 30 e Audio 40 sono dotati di un ampio display LCD da 7 pollici con un vetro di sicurezza antiriflesso. La radio è digitale DAB e tutte le informazioni possono essere gestite sia tramite il touchscreen o attraverso il volante multifunzione. Vito Furgone è estremamente accogliente e i pacchi o gli eventuali passeggeri fino a 9 volte trovano spazio in abbondanza tra i suoi 6 metri cubi e 1000 kg di carico. A questo si aggiunge una posizione di guida intuitiva semplice e comoda, che rende il tempo passato sulla vettura molto meno pesante.